Delle grandi potenzialità del Piano Mattei se ne è parlato nel corso di un convegno alla Sala Zuccari del Senato dove il professor Fabio Verna ha affrontato l'importante tema al cospetto di un ricco parterre che ha sottolineato le strategie per la cooperazione con il continente africano. La politica che ha lanciato il Piano Mattei proprio qui in Senato a Palazzo Mondama l'altro mese ha dato quelle che sono il via istituzionale e l'approccio appunto di politica economica. Vorremmo far emergere in questo convegno passare dalla strategia alla tattica ovvero sia quelli che sono i passaggi per andare sul campo e cominciare a incontrare quei paesi africani che stanno aderendo a questa grande iniziativa del nostro governo e cominciare a vedere i primi approcci. Le aree di intervento sono molteplici perché sicuramente si parte da un efficientamento energetico questo è indubbio, sicuramente l'Italia, paese manifatturiero, ha bisogno di materie prime che sono nel sottosuolo africano dove invece di andare a occuparci semplicemente di un acquisto si andrà a fare un concambio di quelle che possono essere le prospettive per arricchire la vita quotidiana dei cittadini dell'Africa e questo dovrebbe dare anche un'attenzione all'immigrazione perché chi vuole emigrare dalla propria terra se trova una buona qualità di vita sul territorio probabilmente preferirà rimanere a casa propria. Un lungo dibattito in cui sono stati trattati temi per favorire lo sviluppo degli stati africani. Ci aspettiamo ovviamente tanto per quello che riguarda le intenzioni che tutto il paese sta cercando di infondere sul piano Mattei in sé che rappresenta dal punto di vista strategico un passo enorme avanti per l'Italia in politica estera. Le prospettive sono sicuramente molto buone, interessanti, necessarie. Non potevamo pensare di lasciare fuori l'Africa, un continente con grandi prospettive di crescita ma soprattutto la grande novità non è più un'Africa che va sfruttata ma si crea un rapporto di collaborazione, di condivisione. Potenzialità importantissime per il sistema paese, anche per la regione Lazio che è la seconda economia italiana quindi si può fare molto anche in termini di transizione ecologica quindi l'energia deve essere al centro di questo nuovo patto dove l'Italia è protagonista.